Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A1 per presenza di mezzi in lento movimento tra Calenzano e Barberino in direzione nord. In Fipili possibili disagi per lavori all'altezza del turbone tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni. Ultima pagina, in conseguenza dell'emergenza sanitaria coronavirus, ricordiamo di limitare al massimo ogni spostamento non necessario. È in vigore inoltre l'ordinanza dei Ministeri della Salute e dell'Interno che vieta di uscire dal comune nel quale ci si trova. Fortemente rimodulati inoltre i servizi ferroviari, aerei, marittimi e il trasporto pubblico locale su tutta la Toscana. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie.